ciao a tutti sono riccardo sbertoli il nuovo palleggiatore della trentino volley vestire la maglia di trento per me è una grande soddisfazione e fonte di grande responsabilità è la squadra che ho sempre visto vincere quando mi sono avvicinato alla pallavolo per me è come un sogno che si realizza imparerete a conoscermi sono un ragazzo solare sincero a cui piace divertirsi e lavorare in palestra non vedo l'ora di conoscere anche tutti voi tifosi staff e giocatori un abbraccio e a presto grazie